Musica Ho scelto proprio Santa Caterina Borgo per la sua bellezza, per questo borgo ricco di palazzi antichi tra i quali voglia appunto della famiglia Ferri Lenarciac e dei miei amici altri da Barbara Lenarciac appunto che hanno portato a Santa Caterina una ventata di internazionalità riqualificando quindi anche dal punto di vista culturale questo borgo già restaurato grazie diciamo all'attività proficua del sindaco Severino Mia moglie è nata qui, è nata a Soverato e io sono straniero ma quando sono venuto qui era tutto bruciato, distrutto ha detto guarda, si può rifare tutto questo anche parlare italiano finalmente e siamo qui da 30 anni e abbiamo ricevuto delle belle presenze di voi grazie a voi di venire qui grazie tanto grazie Tonia, grazie al festival d'autunno e speriamo di rivederci all'anno prossimo grazie grazie a voi 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 grazie a voi